Siamo sulla Stratale Adriatica, che qui al centro di Fano diventa Viale Primo Maggio. Quello che vedete sullo sfondo è il semaforo del Lido. E qui siamo al numero civico 95, dove ci troviamo di fronte a una bella sorpresa. L'asfalto è ceduto, c'è un bel buco e siccome la gente qui ogni tanto ci passa in bicicletta, di giorno magari se ne accorge. Di notte fa un bel volo e se tutto va bene finisce l'ospedale con la testa rotta. Dobbiamo aspettare che ci scappi il morto prima di mandare qualcuno a ripararlo?